La legge della giungla proibisce a tutti gli animali di assalire l'uomo, tranne quando vogliono insegnare ai loro piccoli come si uccide. Qualcuno sta salendo su per la collina, disse mamma lupa tenendo l'orecchio, tieniti pronto. Un uomo, esclamò, un cucciolo d'uomo, guarda, proprio davanti a lui. Sher Khan ci fa l'onore di una visita? Voglio la mia preda, un cucciolo d'uomo è venuto da questa parte. E sono io, Raksha, il demonio, che ti risponde. Il cucciolo d'uomo è mio, l'Ungri, mio, e non sarà ucciso. Vivrà per correre con il branco e cacciare con il branco. E alla fine stai attento, cacciatori di cuccioli nudi mangieranno a chiappa pesci che non sei altro, perché sarà lui a dare la caccia a te. E adesso vattene. Babbo Lupo gli insegnò il mestiere di vivere e il significato di tutte le cose della giungla. Ma Mowgli, essendo un cucciolo d'uomo, doveva imparare molto di più. Ed è qui che inizia la sua storia. E' qui che inizia la sua storia. Grazie a tutti.